Dall'immigrazione alla questione morale, dopo i fatti di lodi, dalle politiche familiari allo sblocco delle opere pubbliche. In una inusuale presenza al question time, l'appuntamento della botta e risposta tra governo e Parlamento, il Premier Renzi tocca tutti i principali temi in agenda. Ribadisce la volontà di difendere Schengen, ma torna ad attaccare la decisione dell'Austria di ripristinare i controlli al Brennero. Che ciò che abbiamo visto dall'altra lato del Brennero è assimilabile a puro esercizio di propaganda, come molto opportunamente ha voluto sottolineare il ministro degli esteri tedesco. Le opposizioni invece, in particolare Lega e Fratelli d'Italia, criticano la politica di accoglienza dell'Italia, mentre i Cinque Stelle tornano all'attacco sulla questione morale. Noi abbiamo proposto la carta dell'onestà, cinque leggi anticorruzione già presentate, e dopo tutti questi episodi dobbiamo capire cosa impedisce veramente al governo di votarla. Il governo promette anche nuovi interventi per ridurre il peso fiscale sulle famiglie per la ripresa della natalità. Si pensa anche a misure per riformare l'ISE, l'indicatore della situazione economica che finora ha avuto un impatto molto pesante sulle famiglie.